Stavo pensando, scusate una cosa che ve la devo dire perché così sono al buio, allora venga lei da me, grazie. Allora, ci sono delle situazioni che accadono, questa è la Galleria Orlando, io sono Alessandro Orlando, lo dico per chiarire l'idea, a chi l'idea ce l'ha poco chiare. Può succedere, succede abbastanza spesso, ma può succedere per mille motivi, che qualcuno gareggi su un'opera e giochi, c'è gente divertente che si diverte a giocare e quindi magari non rispetta poi quello che è la gara, perché ci divertiamo un po', giochiamo, magari vuole fare bella figura con la persona che è accanto, non lo so, sono mille motivi per cui possono portare una persona a giocare e lo dico perché per rispondere a un signore che ha parlato poc'anzi con Gloria, dice che ieri sera si era assegnato un altro quadro, allora se le cose non le si sanno, perché il mondo della televisione è un mondo particolare, io sono in diretta in tutta Italia e mi dicono che a quanto pare, non voglio pensarci, ogni sera si sintonizzano con la mia rete circa 50 mila persone e mi viene male solo a pensare, 50 mila persone sono tante, in queste 50 mila persone ce ne sono 40 mila serie, ce ne sono un po' meno, dagli altri 10 mila sono gente, ragazzini che giocano, che si divertono, è chiaro è difficile mettere un filtro a questo, quindi può succedere che qualcuno, qualche quadro vada assegnato più alto perché qualcuno gioca, chiaramente quando a Centrallino si accorgono di questo viene ricontattato il cliente che ha fatto l'offerta precedente per dire se eventualmente fosse interessato, tutto questo avviene all'interno della Galleria Orlando, non chissà in quale rete improvvisata, quindi quella signore di poco fa che si è permesso di dire alla centralinista faccio questa offerta e poi non ne faccio altre, perché non voglio, ecco per favore, mi faccia la cortesia di cambiare canale e di guardare altra gente. Perché non la gradisco dai miei clienti, chiaro? Perché questa è la Galleria Orlando, io mi chiamo Alessandro Orlando e non sono nessuno, sicuramente lei è più importante di me, però io vado in onda con il cognome della mia famiglia e ci tengo molto a questo, e qua facciamo le cose sul serio. Grazie, cambi canale per favore, se lei vi ritorno, ok, grazie. Prego. Per l'opera numero 7, Treccani, mille euro. Ah, per il gioiellino più picco, non vedo. Ah, è di qua, hanno nascosto. Per l'opera di tenere sul canale numero 7, mille euro soltanto. La qualità. È veramente meraviglioso, è un piccolo gioiello, veramente un piccolo gioiello. Veramente, veramente bello. Veramente un gioiellino. Mille euro. Ed è questo eccezionale. Che c'è? No, 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 no. Dimmi, dimmi, dimmi. Sì? Sì? No, no, ma perché non cambia canale? Vada via. Non voglio persone che mettano in dubbio il mio lavoro. Mi dà fastidio. Perché adesso gli voglio far vedere la bollettina della pronotazione di questo quadro? È un cliente. Dammi la bollettina. Il computer? Non lo so. Ma guarda che gente strana. Io capisco, capisco che chi guarda la televisione, c'è della gente che fa televisione, io mi rendo conto, in effetti lei ha ragione, perché c'è tanta gente strana che fa televisione, gente arrogante, che ti dice che se non compri sei uno stupido. Qui c'è educazione in questa rete? C'è educazione e rispetto. Lo voglio anch'io. Ok? Grazie. Non mi arrabbio mai, ma quando mi tocca nulla, saper fare queste cose e farle bene, mi dà fastidio. Molto. Prego, cara Glory, dimmi. Sì, allora, questo è entrato in gara a mille euro.